Guarda che cosa ha postato il tuo Flavio sul suo profilo Instagram, ecco qua. Ma figurati Naomi. Con Naomi Campbell, subito a casa sua. Allora, come commenti? Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco. Bene. Allora, come commenti questa visita blitz di Naomi a casa di Flavio? Beh, non sono mai stata gelosa di Naomi, neanche quando ero fidanzata con Flavio. La mia prima vacanza... Ma come? Ma scusate, ha qualcosa in meno di Naomi, non credo proprio. Guarda, Naomi e Flavio hanno un rapporto tipo, cioè, Naomi ha poche persone su cui può contare, uno di quelle è Flavio. Quindi, ma io ho litigato con lei dopo 15 giorni. Appunto, è proprio su questo che volevo tornare perché tra te e Naomi non è che scorresse sempre buon sangue. Dopo ci siamo chiarite in realtà, ma io ho fatto la mia prima vacanza in Kenya, ero fidanzata con Flavio da nemmeno due mesi, sono arrivata. Siccome era capodanno, lui giustamente dà il bacio della mezzanotte del nuovo anno a me, lei è andata su tutte le furie, ha fatto un gran casino, ha preso le valigie e è andata via. Ma roba che appare!